A poco più di un anno dall'approdo della versione definitiva su Steam, Assetto Corsa di strada ne ha fatta davvero tanta. Con un flusso costante di aggiornamenti sul fronte PC e una versione console in arrivo su PS4 e Xbox One il prossimo 22 aprile, l'italiana QNOS Simulazioni si trova in un periodo decisamente impegnato. Grazie al publisher italiano Alifax abbiamo avuto modo di incontrare a Milano Marco Massarutto, cofondatore dell'azienda, e provare l'ultima versione Alfa di Assetto Corsa su PlayStation 4. Grazie a un buon numero di console Sony equipaggiate con PlaySit e volanti Trussmaster, abbiamo fatto diversi giri in pista con una versione del gioco ottimizzata appositamente per l'evento, che prevedeva una limitata scelta di mezzi e tracciati. Per chi non conoscesse Assetto Corsa si tratta di una simulazione davvero senza compromessi, al punto che nel corso della sua evoluzione QNOS ha più volte collaborato con alcuni importanti costruttori, tra cui la stessa Ferrari, per la creazione di simulatori ad hoc. Un'esperienza che testimonia la volontà di aderire ad una filosofia simulativa assolutamente rigorosa, e allo stesso tempo la volontà di dimostrare che non c'è bisogno di licenze poetiche per creare un'esperienza di guida tutto sommato accessibile anche dai meno esperti. Quanto al porting su console, la sfida più grande è stata naturalmente lasciare intatto il complesso modello di simulazione della fisica, e soprattutto puntare ad un framerate fisso a 60 fps. L'Alpha provata a Milano mostrava già tutti i lati positivi di un compromesso evidentemente ben bilanciato. Senza perdere eccessivo smalto grafico, sulla piattaforma Sony il gioco arriva ora senza problemi a 1080p con 60 fps generalmente costanti. Qualche leggero calo si nota utilizzando le visuali esterne, mentre su Xbox One, per ottenere la medesima fluidità, ci sia al momento dovuti fermare ai 900p. Quanto all'effettistica, le nostre prove su PS4 hanno rivelato rinunce più che accettabili, laddove il comparto riflessi e particellari appare tutto sommato intatto. Messo a diretto confronto con simulazioni recenti dall'ottima grafica quali Project Cars e Forza Motorsport 6, Assetto Corsa si rivela senza dubbio meno spettacolare, anche data l'assenza di effetti atmosferici. Ma il suo punto di forza risiede senza dubbio nella pura qualità simulativa. Proprio riguardo a quest'ultima, il primo obiettivo degli sviluppatori è stato quello di garantire su console la medesima esperienza di guida già apprezzata su PC, e l'obiettivo può dirsi centrato in pieno. Volante alla mano, Assetto Corsa è come sempre in grado di restituire sensazioni al massimo realistiche, con una notevole differenziazione delle diverse vetture, ognuna in grado di fare storia a sé. Quanto invece alla guida tramite Gamepad, quest'ultima era stata oggetto di ottimizzazione ai tempi della distribuzione su PC, e si rivela ancora oggi funzionale a patto di attivare qualche aiuto in più alla guida. Con queste impostazioni, Assetto Corsa può dunque rendersi appetibile per un pubblico discretamente ampio, la passione per la simulazione e la propensione a sperimentare con i settaggi, così come la pazienza necessaria ad affrontare una curva d'apprendimento che può rivelarsi discretamente ripida, sono elementi più che sufficienti a convincere un utente anche non espertissimo di simulazioni a dare una chance al lavoro di Kunos. Per coloro invece già appassionati, l'arrivo di Assetto Corsa su console potrebbe rappresentare un'ottima ragione per dotarsi di un volante, dato che per godere appieno del comparto simulativo, questa rappresenta senza dubbio la via migliore. Quanto ai contenuti, anche quelli non subiranno variazioni, laddove l'unica differenza sostanziale è rappresentata da un design completamente nuovo per l'interfaccia, ripensata per adattarsi al controllo via pad. Dopo i notevoli e meritati riscontri su PC ottenuti sin dai tempi del primissimo Early Access, Assetto Corsa ha attirato l'attenzione di un pubblico via via sempre più ampio, e l'arrivo su console potrebbe rappresentare un ulteriore passo per l'italiana Kunos. L'attesa sta per giungere al termine, e quanto provato a Milano su PlayStation 4 conferma ancora una volta la notevolissima preparazione tecnica del team di sviluppatori, i quali alla prima esperienza su console sembrano aver già trovato un equilibrio notevole tra necessitare relative alla fluidità e compromessi grafici. Per tutti gli appassionati di simulazioni, l'invito è non perdere d'occhio l'arrivo di Assetto Corsa su PS4 e Xbox One, previsto per il prossimo 22 aprile.